Lucifero è arrivato all'ultimo quarto d'ora, ma non intende cedere facilmente. Sulle aree centro-meridionali, almeno fino a metà settimana, si manterranno condizioni di sole, siccità e caldo soffocante, soprattutto tra martedì 8 e giovedì 10 agosto. Pausano al giornata del 7 agosto, che si manterrà in linea con le medie stagionali su tutta Italia, anche al nord, salvo qualche instabilità localizzata sui rilievi, qualcuna prevista anche su quelli meridionali, specie della Lucania. Sempre molto caldo sulle aree tirreniche al sud e sull'isola, con punte sui 39-40 gradi centigradi. Meno caldo sul medio adriatico e al nord, con valori massimi non oltre i 32 gradi sulle pianure. All'8 agosto, progressivo cedimento dell'alta pressione di Lucifero su parte del nord, in particolare su Alpi, Prealpi e Alte Pianure. Su questi settori aggira la coda di un ciclone nord-atlantico in azione sulla Francia, con rovesci temporali diffusi, spesso forti e con rischio nubi fragili, talora in estanzione alle medie pianure. Come detto, sempre sole caldo intenso sul resto dell'Italia e caldo anche sulle pianure Emiliano-Romagnole del Basso Veneto e Sud Lombardia, fino a metà settimana. Il caldo torrido subirà uno stop venerdì 11 a causa dell'arrivo di una circolazione più fresca e instabile da nord, con crollo termico di 10 gradi ovunque e clima più confortevole per tutti. Persisterà tuttavia la siccità al centro-sud, dove, nonostante il cambio di circolazione, non sono attese piogge importanti, se non deboli precipitazioni sul medio adriatico. Grazie. 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 Grazie.